Il velista britannico Andrew Simpson è morto dopo che la sua imbarcazione si è capovolta a largo della costa a nord della California durante un allenamento per la Coppa America. La vittima, a bordo del catamarano svedese Artemis Racing, era stata a medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. Un altro velista è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Simpson, soprannominato Bart dal nome dell'eroe dei cartoni animati, è stato sbalzato in mare dopo che il catamarano si è rovesciato. L'incidente nella Baia di San Francisco durante gli allenamenti in vista della regata che si svolgerà a luglio nelle acque californiane.